Fasi di studio, ci si parla, ci si guarda un po' anche per capire dove possono essere i compagni di squadra per cercare di cominciare a organizzare qualcosa, per cercare di magari provare a portare via una fuga, però per il momento l'andatura rimane sempre piuttosto alta, non cambia la situazione quando ci stiamo per avvicinare nuovamente al passaggio dalla zona arrivo. Luca Lapi adesso del Velo Club Empoli a scandire il passo sulla testa del gruppo sulla quale fanno buona guardia sia gli atleti della Foscomessi ma praticamente tutte le squadre sono rappresentate e risalgono sulla testa della corsa anche gli atleti del Velo Club Empoli. Noi grazie alla seconda telecamera abbiamo modo di avere anche una doppia visuale della situazione, non cambia la situazione se non che il gruppo ci sembra un pochino assottigliato, un pochino diminuito il gruppo nel numero. sale, continua a salire la strada e adesso si fanno vedere sulla testa della corsa gli atleti della Foscomessi di Calenzano a scandire il passo, praticamente sono uno della Calenzano, della Foscomessi e uno dell'Empolese. alternati ancora una volta Damiano Petri a scandire il passo sulla testa della corsa, la sua ruota potrebbe essere Cardelli l'atleta dell'Unione Ciclistica Empolese che si alza sui pedali così come sta facendo Petri adesso appunto, che si alza sui pedali per affrontare al meglio queste rampe della salita del bacco come ormai abbiamo imparato a riconoscere. Non cambia la situazione o meglio il gruppo si mantiene compatto sulla testa della corsa però questo è un passo che fa un po' male. vediamo che si allunga sì perché comunque la strada è stretta e quindi non potrebbe essere diversamente ma ci stiamo rendendo conto che questo passo potrebbe fare un bel po' di selezione, potrebbe andare un po' a scremare il gruppo, a diminuirlo nel numero. Petri comunque continua a scandire il passo, poi appunto in seconda posizione ci sembra Cardelli, poi in terza posizione è un portacolori del team Valdini Evole, queste sono le squadre comunque che si stanno alternando questo frangente sulla testa della corsa. Comunque Petri praticamente si è fatto tutta la salita al comando, adesso Cardelli prova un po' ad affiancarsi a lui ma per il momento non cambia la situazione. Adesso si alza sui pedali proprio Cardelli l'atleta dell'Unione Ciclistica Empolese e prova a piazzare uno scatto, prova a piazzare un allungo l'atleta dell'Unione Ciclistica Empolese proprio praticamente al termine della salita, quindi la nostra telecamera si è dovuta anche un po' avvantaggiare visto che adesso la strada diventa un pochino più favorevole. Lo confermiamo che l'Apo Cardelli col dorsale 140, l'atleta dell'Unione Ciclistica Empolese che praticamente in vista del termine della salita si è sganciato, ha provato a lasciare la compagnia e insiste nel suo tentativo in questo tratto di discesa. Vedremo se alle sue spalle riuscirà qualcuno a riportarsi su di lui, un po' di compagnia, se così si può dire, gli farebbe sicuramente comodo. Questo è il terzo passaggio dalla salita quando appunto è già stata la terza volta che hanno affrontato questo tratto di salita con l'Apo Cardelli che si allunga e già mette un po' di margine, una quindicina ai suoi secondi di vantaggio nei confronti del gruppo che come vediamo è decisamente diminuito. Una prima parte del gruppo, se così vogliamo definire. Ci stiamo avviando verso la conclusione ed è cambiata la situazione perché su Cardelli l'atleta dell'Unione Ciclistica Empolese si è portato Damiano Petri della Fosco Bessi ed è lui adesso che sta facendo l'andatura. È un po' la coppa che abbiamo visto nel corso del terzo giro sulla salita che si stava un po' alternando. O meglio, Petri stava facendo l'andatura e Cardelli era alla sua ruota. Probabilmente sono due degli atleti più in forma in questa giornata, in questo secondo Memorial Alessandro Biondi. Adesso è l'atleta dell'Empolese che è passato a fare l'andatura con Petri che rifiata, rimane un pochino a ruota del compagno di avventura. Quando la corsa transiterà dalla zona arrivo, poco prima almeno dovremo vedere il suono della campana. Inizia appunto l'ultimo giro per tutta la corsa con questa coppia che quindi sarà la prima a transitare sotto lo striscione di arrivo dove il pubblico già ha cominciato ad asseparsi ai lati della strada. Ultima svolta a destra per la testa della corsa e questa è la penultima volta che viene affrontata la salita. Lapo Cardelli adesso nuovamente ha la comando a spingere fino a che il proprio rapporto glielo permette. Chiede il cambio a Damiano Petri che non si esime da questo compito e infatti passa prontamente a fare l'andatura l'atleta della Fosco Bessi di Calenzano. Adesso appunto l'atleta è in maglia verde-nero a fare, a scandire il passo con Cardelli che si mantiene alla sua ruota. Eccolo là lo striscione di arrivo ed ecco anche la seconda telecamera che entra in funzione. E contrariamente a quello che abbiamo visto anche nelle gare di questa mattina adesso non vediamo niente alle spalle. Arriva il gruppo, eccolo qua, dove sono gli atleti del team Valdinievole a scandire il passo. 30 secondi il ritardo del gruppo o quello che rimane dai due atleti al comando che abbiamo lasciato andare e che probabilmente, eccoli qua, tra poco riprenderemo sempre Cardelli adesso a scandire il passo con Petri che si mantiene in seconda posizione. Si alzano entrambi sui pedali, siamo nel corso dell'ultimo giro, si va all'arrivo adesso. Quindi se qualcuno vuol provare a fare la differenza in salita potrebbe essere questo un momento, anche se poi c'è un bel po' di strada da fare prima di arrivare alla conclusione. Chiede il cambio Cardelli ma non glielo dà Petri. Quindi questo vuol dire due cose. O Petri non ce la fa e quindi Grassa se rimane attaccato alla ruota di Cardelli, oppure un po' di tattica da parte dell'atleta della Fosco Bessi di Calenzano. Sembra indemoniato oggi l'apo Cardelli. Prova nuovamente a piazzare la botta e sembra che non ce la faccia Petri a tenere il passo di Cardelli. Quindi probabilmente non era pretattica quella dell'atleta della Fosco Bessi, ma è una giornata di grazia, una giornata particolarmente felice per l'apo Cardelli, che mette qualche metro tra sé e Petri. Chiede anche rifornimento, ci era sembrato infatti, sì. Chiedeva un po' d'acqua l'apo Cardelli perché, lo ricordiamo, è stata una giornata piuttosto calda. Vento sì, però comunque il primo caldo ha sicuramente influito sulla condotta di gara dei ragazzi. Continuiamo a seguire con la nostra telecamera l'apo Cardelli, lo sale 140 per l'atleta primone ciclistica empolese che viene incoraggiato dai suoi, continuano nella sua azione e la sensazione è che stia aumentando il suo vantaggio nei confronti di chi lo insegue, del buon Damiano Petri, che quindi, lo ripetiamo, non stava facendo pretattica, ma probabilmente non ce l'ha fatta a tenere il passo dell'atleta dell'Empolese. Ed eccolo qua, lo ritroviamo, l'apo Cardelli che ovviamente insiste perché ancora non è detto il tutto per tutto e giustamente insiste nell'inseguimento Damiano Petri perché potrebbe nuovamente ricongiungersi alla testa della corsa per giocarsi questa parte finale e vedremo, continuiamo a seguire in questo tratto di strada più favorevole l'atleta della Fosco Bessi di Calenzano, Damiano Petri, il sale numero 3 per lui e questo tratto di strada sembra in un certo senso favorire Cardelli che ricordiamo si trova sempre al comando perché non permette un contatto visivo con chi si trova davanti. Però è comunque da apprezzare lo sforzo di Petri che insiste nella sua azione, non si dà per vinto. Alle spalle di Cardelli prima e Petri poi troviamo un primo drappello in seguitore dove prova a smuovere le acque, prova a organizzare un inseguimento Nicolo Iacchi del team Franco Ballerini lui che potrebbe concorrere alla maglia di campione provinciale e vediamo che guadagna qualche metro Nicolo Iacchi, su di lui provano a riportarsi poi altri atleti riconosciamo maglie della Donoratico e del team Valdinievole che di fatto si riportano su Iacchi e quindi la sensazione è che sul gruppo non ci sia un grandissimo accordo dovrebbe essere Di Riccio, Santiago Di Riccio, l'atleta del team Valdinievole che adesso sta scandendo il passo, gruppo in lunga fila indiana saranno al massimo una ventina di atleti così a colpo d'occhio forse anche qualcosa in più e vedremo se riusciranno ad organizzare l'inseguimento oppure se questo secondo memore Alessandro Biondi sarà un discorso a due tra Petri e tra Cardelli anche gli atleti di linea ciclistica al Donoratico provano a organizzarsi noi risaliamo verso la testa della corsa e troviamo sempre Petri all'inseguimento quindi questo vuol dire che l'Apo Cardelli è sempre solitario al comando insiste giustamente, lo ripetiamo Damiano Petri nella sua azione perché ancora è una posizione un po' scomoda la sua perché come si suol dire è a bagno maria, però comunque deve insistere nella sua azione torniamo però su quella che è la testa della corsa, su quello che è stato un po' il mattatore di giornata l'Apo Cardelli, lo ritroviamo l'atleta in maglia bianco celeste dell'Unione Ciclistica Empolese continua nella sua azione l'Apo Cardelli davvero ha portato via il tentativo sul quale può essere riportato proprio Damiano Petri poi quando la salita ha continuato a salire, scusate la ripetizione ha comunque insistito nella sua azione e adesso è praticamente in vista del rettilineo finale quindi probabilmente sarà un'apoteosi per l'Apo Cardelli che potrà godersi questi ultimi centinaia di metri verso la vittoria e verso l'arrivo dove tanto pubblico si è assiepato e dove tanti suoi sostenitori, accompagnatori e quant'altro lo stanno aspettando lui sa che ormai la vittoria è sua si può godere e sorride giustamente perché davvero ha fatto una grande azione oggi l'Apo Cardelli quindi tra poco entrerà in scena anche la seconda telecamera già gli applausi da parte di tutti gli sportivi non solo dei suoi sostenitori ed eccolo qua il rettilineo tutto per l'Apo Cardelli come nel più bello dei sogni per ogni corridore un rettilineo nessuno dietro che può impensurire la vittoria poter avere tutto il tempo di alzare le braccia al cielo di sfogare anche la rabbia e la frustrazione dei mesi precedenti e tagliare il traguardo a braccia alzate vittoria per l'Apo Cardelli l'atleta milione ciclistica empolese seconda posizione per un ottimo comunque Damiano Petri che taglia appunto il traguardo in seconda posizione l'atleta della Fosco Bessi di Calenzano lanciata la volata per la terza posizione Emanuele Mighelli che di fatto anticipa tutti gli altri del Velo Club Empoli quarto Santiago Di Riccio del team Valdinievole quinto Giacomo Serangeli dell'Unione ciclistica Foligno sesto Mattia Ballerini del Velo Club Empoli settimo Leonardo Sica della Monte Carlo ottavo Mattia Proieti dell'Unione ciclistica Foligno non Lorenzo Lavorini della Giusfredi e decimo Alessio Leone del team Coratti nuovo campione provinciale Santiago Di Riccio del team Valdinievole grazie alla quarta posizione che ha saputo raccogliere questo l'epirgo dell'intera giornata azzurra appunto della polisportiva Mille Luci noi vi lasciamo alle interviste che abbiamo realizzato per voi All'Apo Cardelli te lo sei goduto questo rettilineo finale con tutti gli applausi? Sì me lo sono goduto era dal penultimo giro ho provato a dare la botta in salita ho visto che sono rimasto da solo e poi ho continuato insomma poi mi ha raggiunto Petri però poi dopo al giro dopo ho provato un'altra volta a forzare l'andatura sulla salita e devo dire che il lavoro è riuscito per bene Le avevi le informazioni? Lo sentivi che il tuo vantaggio aumentava? Sì ogni tanto diminuivo ogni tanto andavo ma ho detto ormai sono qui gli do tutto se no non si arriva Tanta tanta soddisfazione per te hai anche sfogato un po' di frustrazione sull'arrivo? Sì soprattutto anche perché era due anni che ormai non montavo più sul podio non facevo un piazzamento sono stati due anni abbastanza travagliati perché comunque anche l'anno scorso ho avuto un problema col ginocchio poi quest'anno non è stato facile trovare la condizione ma devo dire che quando si dà tempo al tempo poi i risultati vengono Damiano Petri per un po' hai provato a tenere il passo di Cardelli infatti anche all'ultimo giro siete passati insieme e poi nel proseguo della salita ti è toccato salutarlo? Sì salita molto probabilmente anche la gara di ieri l'ho risentita e niente è andato più forte complimenti a lui Terzo classificato Manuele Migheri hai vinto la volata del gruppo un po' di rammarico però almeno la posizione sul podio Sì era un po' che c'era la fuga fuori abbiamo provato un po' a rientrare sulla salita del baco e sullo strappo rossi però non c'era accordo e non siamo più riusciti a rientrare allora ho dovuto provare a fare la volata è andata bene Santiago Di Ricci una quarta posizione con un po' di rammarico anche per te però almeno la maglia di campione provinciale te la porti dietro per tutto l'anno Sì è stata una gara molto dura soprattutto le quattro volte sul baco anche all'inizio giro ho provato a dare una botta a portare via un gruppetto però non c'era molto accordo e all'ultimo c'è stata anche una caduta in volata sono stato dietro a Micheli e ce l'ho fatta arrivare quarto a prendere la maglia